Musica Finiscono nuovamente sotto sequestro gli impianti di calcestruzzo di proprietà dei fratelli Traina di Portempedeo che il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Agrigento su richiesta dalla procurante mafia di Palermo. I tre germani erano stati arrestati nel 2005 per associazione mafiosa. Due impianti di produzione di calcestruzzo messi sotto sequestro da parte dei giudici della sezione misura di prevenzione del Tribunale di Agrigento. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti degli impianti dei fratelli Traina di Portempedeo che è finito nel 2005 nei guai giudiziari con l'accusa di aver imposto illecitamente il monopolio nel settore delle costruzioni avvalendosi della loro vicinanza con gli ambienti di Cosa Nostra. Il sequestro era stato richiesto dalla procura distrettuale antimafia di Palermo. Si tratta del secondo provvedimento del genere in sei anni per gli stessi impianti, siti lungo la strada statale 115 e l'ingresso della città marinara, impianti nei quali erano obbligati a rifornirsi di cemento tutte le imprese che si giudicavano una gara a Portempedeo. Giorgio Alberto e Maurizio Traina vennero arrestati nell'aprile del 2005 grazie alla collaborazione di un imprenditore che denunciò l'impossibilità di operare liberamente nel settore del calcestruzzo. Le sue dichiarazioni furono suffragate in corso di indagini dalle dichiarazioni di un pentito ed è verbale di trascrizione di alcune intercettazioni autorizzate dal giudice per le indagini preliminari. Fernando Asaro, insieme ai tre fratelli poliziotti del commissariato di Portempedeo, qui in quell'occasione arrestarono anche un altro soggetto, Alfonso Livecchi, anche gli impedoclino. Secondo le indagini, i Traina nella città marinara detenevano il monopolio del calcestruzzo grazie alle alleanze intessute con Cosa Nostra e con la politica locale. La dittà familiare aveva stretto legami con l'organizzazione criminale dei Grassonelli e dei Putrone mentre per avere sicurezza sugli appalti avvicinava amministratori comunali tentando di inquinare anche il voto. I tre fratelli sono stati già giudicati per questi reati. Maurizio Traina è stato condannato ad otto anni di reclusione per associazione mafiosa. Alberto invece è stato ritenuto colpevole di estorsione e condannato per questo a quattro anni mentre Giorgio Traina è stato assolto in secondo grado. Hanno presentato denuncia alla Procura della Repubblica di Messina i genitori di Davide Peruga, un ragazzo licatese di 18 anni morto per un presunto caso di malasanità all'ospedale messinese. Il giovane, circa due anni fa, aveva subito un intervento chirurgico alla testa all'ospedale Santeria di Caltanissetta riportando gravissime lesioni al cervello. I familiari del ragazzo si sono rivolte all'autorità giudiziaria perché a loro parere non si tratterebbe di una morte causata da una malformazione congenita ma di un caso di mala sanità. Sono stati tutti scagionati, cinque medici dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattia accusati della morte di una neonata nata da una coppia di rumeni residenti a Camastra. Secondo il medico legale che ha effettuato la perizia, il decesso della piccola sarebbe avvenuto in seguito ad una infezione provocata dalle precarie condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione della famiglia. I fatti risalgono al novembre del 2009. Il giudice monocratico della sezione penale del Tribunale di Palermo, Daniela Vascellaro, ha assolto Giovanni Savattieri, Ida Fierro, Ornella D'Amore e Marco D'Amelio, tutti medici del Policlinico di Palermo. Quattro imputati erano accusati di omicidio colposo. Secondo la Procura della Repubblica del Capologo dell'Isola, avrebbero avuto delle responsabilità nel decesso di Anna Maria Natoli, l'ampedusana morta a soli 41 anni il 21 luglio del 2002 a causa di una malattia cardiaca. Di diverso avviso è stato il giudice che ha assolto i medici. Il Tribunale Penale di Agrigento ha condannato a due anni di reclusione Gerald Castiglione, 50 anni, di porta in pedocle. L'uomo era accusato di violenza sessuale ai danni di una donna in pedoclina che lo denunciò perché questa l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime del corpo. La donna si è costituita in giudizio parte civile. Il PM Santo Fornasie aveva chiesto la condanna dell'imputato a due anni e due mesi di carcere. I poliziotti del commissariato frontiera di porta in pedocle diretti da Cesare Castelli stanno indagando sull'incendio di un autocarro avvenuto nella notte scorsa nella cittadina marinale. Il mezzo che appartiene ad una ditta che effettua dei trasporti verso l'ampedusa si trovava in via Crispi quando intorno a luna di notte è stato avvolto dalle fiamme. sul posto i vigili del fuoco hanno spento il rogo. I giudici di Gela ieri pomeriggio sono stati a Mazzarino per incontrare le autorità e i cittadini un metodo nuovo di fare legalità facendo uscire gli operatori della giustizia fuori dalle aule del Tribunale. Sindaco, l'amministrazione comunale e la città incontra i tutori della legge oggi? È una giornata importante che auspicavo, sognavo già da due anni. Ne avevo parlato già due anni fa con il Presidente Dott. Alberto Leone che ringrazio e finalmente quando ho avuto in organico sette giudici mi ha fatto questo regalo. Oggi è qua veramente a portare tra la gente, tra la comunità i giudici coloro i quali sono portati a giudicare nel rispetto della legge, nel far rispettare la legalità è un motivo d'orgoglio per me e per tutta la comunità. Finalmente i tutori della legge, diciamo, coloro i quali giudicano tra la gente è un motivo d'orgoglio. Sono felice, sono sereno. Anche la presenza di Monsignor Pennisi, del GIP, del Dottor Conti mi inorgoglisce. È veramente una giornata grande per la mia Mazzarino e per tutto il comprensorio. Quanto ha bisogno di legalità questa città? Tanto, non solo questa città, tutto il comprensorio e tutta la provincia. E la presenza dei giudici del Tribunale di Cielo ne è una prova che la legalità prima o poi tornerà in questa nostra provincia. Qual è il messaggio della magistratura gelese oggi alla comunità di Mazzarino? Diciamo, l'arrazio che sta alla base di questo incontro, secondo me, è un modo nuovo, moderno dei magistrati di porti verso la società civile, verso la cittadinanza. Quella di una magistratura aperta alla città e alla città di Mazzarino in particolare che è una di quelle che fanno parte del circondante del Tribunale di Gela. L'idea che i magistrati di Gela vogliono dare è quella di una magistratura aperta alla gente, al servizio degli altri, al servizio della gente. Siamo qui per rendere il conto di quello che abbiamo fatto, delle difficoltà che abbiamo incontrato, dei problemi che abbiamo risolto e di ciò che abbiamo fatto. È per ascoltare dalla parola della gente quali sono le richieste che loro fanno alla giustizia. Troppi fascicoli pendenti, forse ancora oggi? Beh, diciamo che questo è un malatavico della giustizia, cerchiamo di fare del nostro meglio. Ecco, io dirò qualcosa stasera nel corso di questo incontro su questi obiettivi. Ecco, siccome ritengo che niente scaturisca se non organizzato, il Tribunale di Gela ha fatto un progetto per l'evasione dell'arretrato e darò conto di questi risultati. I giudici si avvicinano ai cittadini, ma quanto si avvicinano i cittadini ai giudici? Ecco, noi vorremmo instaurare questo circolo virtuoso. Oggi siamo noi a venire dinanzi alla città di Mazzarino e ai cittadini di Mazzarino, ma vorrei assicurare loro che quando verranno al Tribunale di Gela troveranno i giudici con la porta aperta. Sarà per loro molto più facile accedere alla giustizia anche solo parlando con i magistrati. Arrestato il killer dell'imprenditore gelese Salvatore D'Aleo, assassinato nel 2008 a Busto Arsizio in provincia di Varese. Emanuele Italiano, 60 anni di Gela, residente nella cittadina del Nord Italia. Le squadre mobili di Caltanissette e Varese hanno accertato che l'uomo ha fatto parte quale estorsore ed esecutore materiale del delitto e di azioni dimostrative della famiglia mafiosa dei Rinsivili, al cui reggente nella città Lombarda è Rosario Vizzini, neocolaboratore di giustizia. Poco più di 2 kg di ascici e 4.900 euro in contanti sono stati sequestrati dalla polizia a Caltanissetta. Drogo e denaro sono stati trovati nell'abitazione di un uomo originario di Palermo, Francesco Paolo Ferdico, 46 anni. L'indagato è stato arrestato. Si è insediato oggi nei locali dell'assessorato regionale all'economia e il Comitato per la riforma del credito agevolato per le piccole e medie imprese siciliane, nato con l'obiettivo di predisporre entro l'autunno la base per il riordino legislativo di un settore vitale per l'economia siciliana in una fase assai complessa della congiuntura economica. L'organismo presieduto dall'assessore Gaetano Armao ha avviato i suoi lavori. Il Comitato fornirà entro il 15 settembre un primo documento contenente le linee guide della riforma del settore per avviare il confronto con gli operatori, per acquisire proposte e contributi utili all'assessura del testo di uno schema di disegno di legge sul credito agevolato alle piccole e medie imprese siciliane da sottoporre entro ottobre alla giunta regionale. Un incontro che ha lasciato trasparire uno spiraglio di luce quello che si è svolto presso la sede del distretto sanitario di base di Licata durante il meeting al quale hanno preso parte oltre al direttore del distretto Vincenzo Pezzino anche il sindaco Angelo Graci, l'assessore al territorio Giuseppe Mulè e il direttore generale della Dedano Ambiente Pietro Lucchese è stato individuato un sito all'interno del territorio licatese da adibire a deposito stoccaggio temporaneo di rifiuti solidi urbani in caso di emergenza igienico-sanitaria. È stato lo stesso direttore del distretto sanitario di base ad evidenziare che la zona ex-industriale Alos, sito che era stato indicato durante la conferenza di servizio tenutasi lo scorso 29 giugno in seguito alle opportune e più specifiche verifiche e sopralluoghi non è risultato idoneo. Pezzino dunque ha ribadito, quanto già prospettato più volte ed in diverse occasioni di valutare la possibilità di allocare il deposito nei terreni interessati da una vecchia cava di materiale calcareo incontrata a pizzo porretta stretto confiscata alla mafia e di proprietà comunale. Il sindaco Graci nel prendere atto della proposta fatta dal direttore del distretto sanitario si è impegnato a dare incarico al proprio ufficio tecnico di effettuare le opportune verifiche e l'eventuale progettazione necessaria. Sono stati ufficializzati questa mattina i nomi dei capigruppo consigliari al comune di Canicattine e la giornata di domani invece il presidente del civico consesso Mimo Licata provvederà ad ufficializzare la composizione delle commissioni consigliari. Per la lista Corbo-Sindaco il capogruppo sarà Giovanni Giardina, per l'MPA capogruppo sarà Antonio Tiranno, per il Partito Democratico invece il capogruppo scelto è Calogero Muratore, per il PDL Fabio Di Benedetto, per la lista Canicattì Futuro Antonio Migliorini, per quella Canicattì Forte e Libera Alessio Comparato, per i meridionali Gioacchino Asse, per Canicattì prima di tutto Giuseppe Miglioti. Nessun compromesso con l'amministrazione Corbo né tantomeno a condiscendenza sull'attività amministrativa che andrà a svolgere, quanto dichiara il coordinatore del PDL a Canicattì Francesco Giordano, secondo cui la posizione del partito sarà fortemente critica laddove occorre ed altamente costruttiva per il bene della collettività nel PDL di Canicattì. Non esistono schegge impazzite, continua Giordano, e non vi sono primogeniture d'alter ego. Esistono semmai persone dignitose, dedite alla crescita politica, sociale ed umana. Giorni Giordano riunirà in assemblea i consiglieri comunali, eletti nelle liste e tutti i candidati. Saranno presenti inoltre i vertici di partito al fine di eleggere gli organi statutari. Replica ai sindacati e al presidente del Consiglio Comunale, il sindaco di Sommatino, Salvatore Gattuso, dopo la protesta degli operatori ecologici della SAP che non percepiscono lo stipendio da alcuni mesi. Nei giorni scorsi il Comune ha fatto un versamento al lato, ma si attende ad incassare la Tarso, contro la quale un comitato di Sommatine si ha opposto un ricorso. Con Gattuso abbiamo inoltre visitato i cantieri che stanno interessando tre piazze del Comune. L'intervista. Sindaco, che responsabilità ha il Comune di Sommatino sul mancato pagamento degli stipendi degli operai della SAP? Sicuramente una certa responsabilità il Comune ce l'ha ed è quello di non poter versare i tributi come fanno gli altri Comuni mensilmente. Noi abbiamo fatto una cosa semplice per poter riscuotere i tributi da versare al lato. Abbiamo fatto con la Seret la lotta all'evasione fiscale, quindi alla Tarso, dal 2004 in poi. L'anno scorso noi abbiamo impegnato nel bilancio 804 mila euro, però lato al rendiconto ci ha portato una somma di 846 mila euro, cioè noi abbiamo fatto, tra virgolette, un buco del bilancio di 40 mila euro. C'è stata poi la diatriba fatta da un comitato che ha incitato la gente a fare un ricorso contro l'aumento sproporzionato, io me ne assumo tutte le responsabilità, ma non ho fatto altro che in questo momento riportare l'equilibrio per quanto riguardava la riscorsione dei soldi. Quindi quei soldi che dovevamo riscuotere e che ancora noi tutt'oggi non riscuotiamo in pieno, dobbiamo servire per pagare la Tarso e quindi gli stipendi di questi ragazzi, di questi lavoratori, che io sono mortificato perché è chiaro che uno che lavora deve essere ricompensato con lo stipendio, non solo. Ma io ho fatto l'altro giorno, un 3-4 giorni fa, io ho fatto un versamento proprio al lato venendo a sapere questa situazione per poter pagare gli stipendi, tutto qua. Quindi la manifestazione di stamattina poteva essere anche evitata, discutendo tranquillamente e serenamente col sottoscritto che ha sempre detto che le porte sono aperte sia con i rappresentanti della GGL e soprattutto con i lavoratori, tutto qua. Sommatino sta cambiando volto per quanto riguarda i cantieri di lavoro, una bocca d'ossigeno per molti disoccupati, ma anche una bella prospettiva estetica per il paese. Sicuramente, guardi, ora sono sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo realizzato tre piazzette, devo dire, una è quella dove siamo in questo momento, una largo canale, una davanti al nostro comune, più due praticamente strade. Sicuramente un lavoro che negli altri paesi non si è realizzato. Noi abbiamo veramente speso questi soldi bene per ripristinare un pochino quello che era tutta la pavimentazione che era andata male e quindi l'abbiamo sistemato in modo tale che diamo un volto nuovo al nostro comune, compresa la piazza nuova che già noi abbiamo la ditta a Paltatrice, dobbiamo solo consegnare lavoro. Quindi veramente un volto nuovo per il nostro paese. Volevo dire una cosa a proposito dell'intervista anche fatta al nostro presidente, del presidente del Consiglio Vinciverra, che il sottoscritto, quando si è insediato, e glielo ricordo se l'avesse dimenticato o fa finta di dimenticare, che il nostro comune aveva più di un milione e mezzo di euro di debiti per quanto riguardava la tasso. Noi abbiamo fatto un prestito, che ci è stato concesso un volto di rotazione, di 750 mila euro per pagare l'ATO, la ditta Catanzaro, abbiamo pagato 370 mila euro al lato CL2, abbiamo dato soldi alla SAP, questi sono soldi che abbiamo racimolato proprio con questo fondo di investimento e che abbiamo pagato i debiti pregressi che aveva lasciato la vecchia amministrazione. È chiaro che se noi non riscuotiamo il dovuto, cioè la tasso, non possiamo pagare l'ATO e quindi questi soldi devono essere riversati poi sia alla ditta sia ai lavoratori. C'è una polemica secondo me molto sterile, che non ha fondamento, e che il signor presidente deve andare a spiegare pure ai sommadinesi e le motivazioni per le quali lui è uscito da questa amministrazione. Noi siamo sempre pronti al confronto e a dimostrare sempre su Matinese che abbiamo lavorato con onestà, con intelligenza, con trasparenza e soprattutto nel pieno della legalità. La situazione finanziaria del Comune di Agrigento è drammatica ed ormai sull'orlo del tracollo finanziario e questa è la conclusione che spinge i consiglieri Nello Amel d'Italia De Valore, Salvatore Lauricelli ed Angela Galvano del PD a lanciare un forte allarme per porre attenzione al pericolo di un verosimile crollo di tutta l'impalcatura finanziaria dell'ente. I dati del conto consuntivo 2010, nonostante i tentativi di aggiustamento, mostrano che il Comune di Agrigento ha sforato sei indicatori su dieci e questa situazione porta al risultato finale che ufficialmente identifica lo stesso Comune come strutturalmente deficitario con la conseguenza che lo stesso sarà sottoposto a controllo centrale in merito alla spesa. Con un incontro avvenuto nei giorni scorsi con le rappresentanti della FIDAP e del CIF di Licata, l'assessore alle pari opportunità Giuseppe Arnone ha avviato la procedura per modificare il regolamento comunale della consulta femminile per le pari opportunità. La modifica si rende necessaria per dare effettiva attuazione allo strumento normativo. Ufficializzato nel corso del Vinitali 2011, il marchio d'aria Nero d'Avola Sicilia di qualità si avvia ad essere presentato ufficialmente nei mercati nazionali ed internazionali. Oggi a Canicattì si è svolta una riunione alla presenza dei produttori e dei tecnici per la presentazione ed eventuali osservazioni sulle disciplinare di produzione del nuovo marchio d'aria. Oggi presso lo sportello tecnico informativo dell'Istituto regionale Vita e Vino di Canicattì si tiene un importante incontro che servirà a mettere dei paletti e allimare qualche aspetto riguardante il disciplinare di produzione e il regolamento di produzione del Nero d'Avola di Sicilia. Nero d'Avola Sicilia qualità, è un marchio d'aria volontario che abbiamo voluto costituire come Istituto regionale Vita e Vino per dare maggiore valenza a questo vitigno molto importante cavallo di battaglia dell'enologia siciliana che però ci viene un po' snobbato in tutta Italia anche a volte all'estero. Quindi vogliamo creare questo marchio d'aria volontario dove i produttori possono richiedere appunto questo marchio da porre sulla bottiglia che identifica un territorio identifica un vitigno e dà certezza che questa varietà molto importante viene coltivata nel nostro territorio della regione appunto siciliana e che viene imbottigliato nella nostra terra. Quindi oggi questa riunione con i produttori a livello siciliano abbiamo invitato tutti i produttori di Nero d'Avola e la maggior parte del Nero d'Avola viene coltivato nel territorio tra Agrigente e Caltanissetta e quindi lo sportello tecnico-informativo di Canigattì diventa appunto il riferimento per questa varietà importante siciliana. Quindi stamattina assieme ai produttori e ai tecnici andremo a vagliare il disciplinare di produzione per vedere se ci sono alcune limature prima di mettere in atto questo importante strumento per la salavaguardia del nostro vitigno principe. Appunto una certificazione, quella del marchio d'aria che permetterà al prodotto di essere presente sul mercato e essere riconoscibile e spendibile sul mercato. Esatto, in pratica è un marchietto che verrà posto sulle bottiglie e darà garanzia al consumatore che si tratta veramente del Nero d'Avola di Sicilia con tutte le caratteristiche organolettiche che sono proprie di questo importante vitigno che miete successi in tutti i concorsi nazionali e internazionali. Quindi vogliamo salvaguardare veramente questa cultivare. Dico qualcosa in più, addirittura siccome recentemente è stata costituita la DOC Sicilia è un disciplinare ancora più restrittivo proprio per dare un'imbronta molto importante sul vino dove viene apposto questo sigillo di garanzia. L'allenatore Fabio Capello, accompagnato dalla moglie, è arrivato ieri pomeriggio nella valle dei templi di Agrigento. L'ex mister di Milan, Juventus Real Madrid, l'attuale manager della nazionale di calcio inglese ha visitato i templi agrigentini ascoltando incuriosito le spiegazioni di una guida turistica agrigentina. Entrato dall'ingresso giunone è rimasto colpito dalle bellezze dei beni archeologici del parco una breve visita al Tempio di Giunone, poi giù per la Via Sacra fino al Tempio della Concordia e ancora quello di Ercole prima di passare a vedere il Telamone. Parte stasera al Maracuia Summer Club di Canicattì la terza edizione del festival Gara di Canto per giovanissimi dai 6 ai 15 anni. Lo spettacolo si terrà ogni mercoledì fino al 3 agosto e condotto da Dino DJ. In giuria Alessandra Alessi, Ernesto Trapanese, Salvo Caruso ed Armando Cacciato. Le serate si avvarranno anche della partecipazione della The Royal Latin American School. Domenica 10 luglio, Sinistra Attiva ed Arcisa Marcanda intendono richiamare l'attenzione di canicattinesi e di istituzioni sull'uso responsabile delle auto. Riprendiamoci l'area, lo slogan dell'iniziativa che animerà le vie di Canicattì con l'obiettivo di far riflettere gli attori del territorio sull'uso di mezzi di trasporto alternative e non inquinanti come la bici. A partire dalle 18, dicono gli organizzatori, tutta la città è invitata a prendere parte alla passeggiata ecologica Bici in Città che muoverà dalla villa comunale, snodandosi lungo le principali vie cittadine. Per partecipare non è indispensabile avere una bici, ammessi infatti anche fattini, skateboard e qualsiasi altro mezzo non inquinante, comprese le comode scarpe da ginnastica per una salutare passeggiata a piedi. Al comune di Licata si sta valutando una collaborazione con il centro di servizi per il volontariato di Palermo anche in vista di nuovi bandi in uscita nel prossimo autunno. Per questo l'amministrazione comunale ha incontrato un rappresentante del CESVOP facendo da cerniera con l'associazionismo locale. Le interviste. Sindaco, l'amministrazione comunale al completo oggi incontra l'associazionismo di Licata, si avrà anche un rapporto di collaborazione con il CESVOP? Sì, questo è matematico anche perché noi attraverso l'associazione cercheremo di creare questo inizio che può essere un inizio ben voluto da tutti, anche perché tutte le associazioni da quando mi sono insediato, a dire il vero, mi sono state vicine. E quindi maggiormente dare questo merito e proseguire insieme sarà utile per tutta la città. Noi siamo concordi, oggi è una bellissima conferenza perché ci dà modo di far conoscere anche i nostri siti che sono siti veramente, c'è l'ipogeo della grangela che è veramente un'architettura invidiabile, penso che non esiste in quasi tutto il mondo un ipogeo del genere. Comunque siamo sicuri che attraverso queste associazioni noi daremo alla città di essere conosciute anche fuori. Io devo dire un'altra cosa, grazie a Licata il turismo nell'ambito provinciale ha mantenuto un po' la percentuale perché come ben sapete nel 2009 e nel 2010 ancora questo report non si è fatto, quindi non si conosce l'entità del ribasso della percentuale di turisti come affluenza. Spero che Licata possa portare avanti sempre questa percentuale, tenere alta questa percentuale, anche perché come ben sapete stanno nascendo un altro resort qui da Licata. Abbiamo questo porto commerciale, questo porto turistico che ci dà quell'immagine abbastanza forte di Licata. Poi come ben sapete noi facciamo parte dell'asse 6 da dove si parte da Canicattì, quindi abbiamo lo sbocco finale di Licata, quindi l'asse Canicattì-Licata, dove attraverso questo adembimento che noi andremo a fare già abbiamo avuto dei risvolti abbastanza positivi, Licata ha avuto un finanziamento di 6 milioni di euro. Abbiamo ritenuto necessario, io e il mio collega Licata, Sole Sorriso e il sindaco Graci, fare questa riunione perché è necessario far conoscere il CESVOP come organismo di emanazione nazionale per quanto riguarda la possibilità che attraverso dei progetti dell'associazione di volontariato anche a Licata nascano delle iniziative che impegnino i giovani in una città che purtroppo è da troppo tempo in ribalta della cronaca per fatti negativi. Questo ci può aiutare a distogliere tanti giovani, tante mamme e tante persone che oggi soffrono anche la soglia della povertà, a impegnarli in alcuni progetti pilota che ci consentono di avere finanziamenti e quindi di avere ritorni sul nostro territorio. Sono aperte l'iscrizione al Centro Studi Toniolo di Canicattì per i corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare. Gli interventi formativi della durata di 100 ore sono validi ai fini dell'iscrizione al Registro Esercenti e Commercianti per la somministrazione di alimenti e bevanti. Con questo abbiamo concluso per oggi, vi ringraziamo come sempre per averci seguito e vediamo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie.